Dando seguito alle proposte presentate durante il periodo di lockdown, arriva il provvedimento che congede un contributo a fondo perduto alle famiglie lucane con minori in obbligo scolastico per l'acquisto di beni e dispositivi informatici. Lo dichiara il capogruppo della Lega in Regione, Tommaso Coviello, che si dice soddisfatto per l'approvazione da parte della Giunta regionale della misura che mette a disposizione dei nuclei familiari uno strumento fondamentale per garantire il diritto allo studio e la formazione dei ragazzi. Un provvedimento, spiega, che giunge la vigilia del nuovo anno scolastico per supportare le famiglie con almeno un minore a carico, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, iscritto ad una scuola di ogni ordine e grado della Regione Basilicata. Una misura, conclude, finalizzata a sopperire all'evidente carenza di dispositivi digitali emersa durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.